Il porto di Pesaro si avvicina all'estate fra urgenze non più rimandabili e novità all'insegna della sostenibilità. Rientra nella prima casistica la necessità di dragaggio. I fondali del porto sono ridotti al minimo e si continua a richiedere la possibilità di operazioni di scavo per aumentare pescaggio e profondità. Un dragaggio reclamato dalla politica con il consigliere regionale Andrea Biancani, che sollecita la regione a interloquire con la nuova autorità portuale del Medio Adriatico e lo chiede la stessa Capitaneria di Porto, confidando nella nuova presidenza. Una necessità che si trascina da diversi anni e ormai siamo giunti al momento di dover, come si dice, prendere il toro per le corna. I fondali in Darsera Nuova hanno raggiunto minimi storici e è arrivato il momento, ma i fondi ci sono. Il nuovo presidente è estremamente attento e dinamico, quindi confido che si arrivi in tempi brevi a risolvere il problema. Aspettando il dragaggio, in strada tra i due porti, nella parte terminale dello scalo, si sta allestendo la novità di un'isola ecologica a servizio dei pescatori e all'insegna dell'ecosostenibilità. Devo dire che questo è un altro lavoro che era iniziato nel 2018. Avevo presentato una legge che prevedeva la possibilità di raccogliere soprattutto i materiali plastici che derivavano dalla pesca, quindi dei pescatori. Attualmente i pescatori, qualora pescono durante le proprie attività di pesca, se raccolgono il materiale plastico e lo portano nei porti, sono costretti a pagare lo smaltimento. Quindi ovviamente sembra uno che deve raccogliere quello che non è legato alla propria produzione, sarebbe come si chiedere ai bagnini di dover pagare lo smaltimento delle plastiche che vengono raccolte lungo la riva delle spiagge. Quindi quest'isola ecologica è un progetto derivato da un progetto sperimentale, un accordo fatto tra l'autorità portuale e Capitaneria, ovviamente Regione Marche, Comune di Pesce, Marche e Multiservizi e sarà appunto dedicata a tutti quegli operatori che raccolgono il materiale plastico che potranno essere smaltiti all'interno di quest'isola ecologica. che sarà con una tessera, quindi non è che sarà una nuova discarica nel porto dove ognuno potrà arrivare e abbandonare i fiuti liberamente, ma sarà necessario essere riconosciuti, cioè essere autorizzati per poter scaricare questo materiale.